Una task force regionale, pagine dedicate al coronavirus sul sito della regione toscana, è immediata l'attivazione di un'indagine epidemiologica perché i due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma hanno soggiornato due giorni a Firenze. Questo leggiamo nel comunicato stampa ufficiale della regione toscana arrivato subito dopo la notizia appunto che i due cinesi infettati dal coronavirus avrebbero trascorso ore a Firenze prima di tornare a Roma. La regione ha dunque istituito una task force per garantire tutti gli interventi eventualmente necessari nel caso di una possibile diffusione del coronavirus per tradurre a livello regionale le indicazioni del ministero. La task force è attiva e coordinata da Emanuela Bolacchini, dirigente del settore prevenzione collettiva della regione. Ne fanno parte le direzioni sanitarie delle aziende, la competenza di laboratorio, l'organizzazione del 118 e la componente sanitaria della protezione civile, la ARS, l'Agenzia regionale di sanità, l'igiene pubblica, la rappresentanza di medici di medicina generale e pediatri, un rappresentante delle terapie intensive, malattie infettive, pronto soccorso, servizio, prevenzione e protezione e una componente delle professioni sanitarie a cui si affiancano le competenze regionali dei settori ospedaliero e territoriale. Sulle pagine del sito della regione toscana c'è appunto una sezione dedicata interamente al coronavirus dove si possono trovare le informazioni e i link utili per conoscere meglio il fenomeno, cos'è, come si contrae, come proteggersi, i sintomi, il trattamento, a chi rivolgersi in caso di sintomi e le indicazioni del ministero.